Il controllo dell'udito cambia la vita. Sentiamo chi l'ha fatto. Se risponde, è già un buon segno. Gianluca, perché hai fatto il controllo dell'udito? L'ho fatto io. Parlo a lui e rispondi tu. Perché vedevo che mi guardavi un po' fisso. Perché lui è timido. E continua a parlare tu. Perché io ci sento benissimo. Prima mi dovevano ripetere sempre le cose. Avrà capito? Mo. Prenota il controllo dell'udito gratuito. Chiama 800 500 700. Oh, non facciamo che non ci sentiamo più, eh? Capito? Capito?